Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Anders e LeBige Onal, due migliori amici della serie TV Uchal Katm, si sono incontrati. I bellissimi attori, che hanno incontrato insieme i giornalisti in un locale, hanno risposto alle domande. Anders e LeBige Onal ha dato una risposta molto controllata alle domande dei giornalisti curiosi. È vero che vuoi eliminare le vecchie foto dai social dei reporter? Lei chiese. Ogni volta che ti annoi, cerchi di diffondere un nuovo pettegolezzo, ha detto Anders e LeBige Onal con un atteggiamento spiritoso. È chiaro che un problema del genere non è e non sarà vero. Creativo alle domande su Kerem Bursin, ma senza essere offensivo, abbiamo risposto a tutte le domande. Se c'è una domanda diversa che vuoi fare, va bene, andiamo. LeBige Onal è innamorato del bellissimo attore Aras Boluti Pingli, Yaman, l'attore principale della serie PID. Quando i giornalisti non hanno ricevuto risposta da Ande, hanno chiesto a Bige Onal come stava andando il loro amore. Sono una coppia molto compatibile e hanno un'unione felice. Sfortunatamente, questo è ciò che significa essere una persona famosa. Sono molto curiosi, cosa mangiano, cosa bevono, dove vanno, chiamano, per cosa piangono, per cosa sono felici, ecc. Anders e LeBi piuttosto annoiato dalle domande di recente, ma non c'è niente da fare, è essere famoso. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.